Ciao, nelle scorse lezioni abbiamo imparato a vedere alcuni effetti che Canva propone. Oggi invece vediamo come noi stessi possiamo inventare degli effetti utilizzando quello che abbiamo imparato. Allora creiamo un progetto nuovo, io questa volta prenderò un formato quadrato, ma al solito puoi utilizzare qualsiasi formato, dipende dall'uso che ne vuoi fare e dall'immagine, dal disegno che vuoi realizzare e poi vado a scegliere una foto di argomento natalizio. Al solito mettiamo i nostri filtri e vado a prendere questo, avrei potuto scegliere ovviamente qualsiasi cosa. Allargo l'immagine fino a che non vado ad occupare, ecco qua, quasi tutto lo spazio a disposizione, non proprio tutto, lascio un bordino che mi servirà di contorno. Poi al solito utilizzando le guide viola che compaiono, vedi quando si sposta l'immagine, vado a centrare perfettamente l'immagine. Quello che realizziamo oggi sarà un bigliettino d'auguri natalizio con un effetto un po' particolare, come se l'immagine indietreggiasse e scomparisse all'interno di un tunnel luminoso. Vediamo come si fa. Allora, io ho scelto una fotografia per rendere più veloce il lavoro. Ovviamente tu, anziché prendere una fotografia tua o che trovi qui nella galleria di Canva, puoi realizzare tu stesso un lavoro utilizzando tutti gli elementi che hai imparato a usare finora. Una volta però che il tuo lavoro è terminato, fai così. Vai in modifica immagine, effetti, ombre, luminosità. Vedi che scegliendo luminosità si crea un pochino di ombra qui intorno. Va bene così, volendo, se clicchi due volte, puoi metterla un pochino più trasparente, puoi, lo sai, aumentare o diminuire la sfocatura e anche le dimensioni. Le dimensioni vanno bene in questo modo. Dopodiché vado su trasparenza e la posiziono al 50%. Ok, perfetto. Dopodiché la duplico. Rimpicciolisco un pochino l'immagine che ho duplicato in modo che ci sia, vedi, questo bordino intorno e sempre aiutandomi con, vedi, le guide che compaiono per posizionarla esattamente al centro. Dopodiché vado su trasparenza e metto la seconda al 60%. Poi di nuovo duplico e faccio lo stesso lavoro. Rimpicciolisco, centro, faccio in modo che il bordino sia simile all'altro. Ok, e poi di nuovo trasparente e questa volta metto 70%. In pratica devo duplicare e fare delle immagini che siano sempre più piccole e sempre più trasparenti. Ne facciamo ancora una. Eccola qua. La rimpicciolisco, la centro. E la rendo trasparente all'80%. Perfetto. Come vedi, ho ottenuto un'immagine che sembra in tre dimensioni. Ciò che c'è in primo piano è perfettamente a fuoco, si vede molto bene, ma lo sfondo man mano, man mano, dà questa impressione. Vado sullo sfondo dell'immagine, inserisco un colore come questo. Vedi che se io clicco questo tastino mi dà i colori delle foto. Allora scelgo questo rosso che riprende il rosso della pallina. Ci aggiungo un augurio di buon Natale, magari scegliendo una scrittura a mano, ecco tipo questa. Scrivo. Ovviamente nero si vede poco, allora io lo metto qua, poi nero non mi piace. Lo ingrandisco, così. Vado in effetti e applico quello che abbiamo imparato sugli effetti dei testi. E cioè intanto lo svuoto, poi lo duplico. In quello duplicato applico un neon, che però non lascerò grigio, ma metterò sempre in questo rosso. Sovrappongo perfettamente e poi gli dico mettilo indietro, in modo che si veda il bordino. E io ho preparato in pochissimi minuti un biglietto d'auguri assolutamente originale, con un effetto creato da noi. Ovviamente io, come ti ho detto prima, per velocizzare il lavoro ho preso un'immagine già pronta. Però ti puoi sbizzarrire e fare un biglietto ancora più originale, creando tu stesso il disegno all'interno. Per ora ti saluto e ti aspetto alla prossima lezione. Buon lavoro! Buon lavoro! Grazie.